Salve a tutti, in questo video vediamo la caccia a Belfagor grado B su Final Fantasy XVI, dove possiamo trovarlo? Allora, dobbiamo andare a Elsa Infranta, Rosaria, quindi è scritto chiaramente qual è la posizione, ma andiamo a vedere esattamente sulla mappa in che punto di Elsa Infranta. Allora, prima di tutto dobbiamo dirigerci a Pozzo Orientale, qua, Pozza Orientale. E proprio qui, qua su, abbiamo in basso Elsa Infranta, intanto andiamo qui ad Elsa Infranta, poi vi faccio vedere dove si trova. Quindi percorriamo il ponticello e arrivati ai campi e al mulino a vento, dobbiamo prendere la stradina che ci porta qua giù e proprio qui in fondo si trova Belfagor di grado B. Vi faccio vedere, eccolo qui. È abbastanza tosto, soprattutto nelle prime fasi di caccia del gioco, vi consiglio di lasciarlo per ultimo fra i primi trofai di caccia. E adesso non ci resta che affrontarlo. Un saluto.